La via della voce presenta Il delitto di Lord Arthur Savile, di Oscar Wilde. Era l'ultimo ricevimento da Lady Windermere prima di Pasqua, e Benty House appariva anche più affollata che di consueto. C'erano sei ministri pieni di decorazioni, reduci da un'udienza del presidente della Camera dei Comuni. Tutte le belle signore presenti indossavano i loro abiti più eleganti. In fondo al salone dei ritratti stava la principessa Sofia di Karlsruhe, una dama pesante, dall'aspetto tartaro, con minuscoli occhi neri e enormi smeraldi, che parlava a un cattivo francese a voce altissima e rideva a squarciagola di qualsiasi cosa le si dicesse. C'era veramente una mescolanza stupefacente di persone. Nobildonne ricchissime conversavano affabilmente e con impetuosi radicali. Predicatori alla moda erano a contatto di gomito con scettici eminenti. Un vero sciame di vescovi seguiva di salotto in salotto una robusta prima donna. Vari membri della Royal Academy, travestiti da artisti, si erano fermati sulle scale. A un certo punto si fece notare che la sala da pranzo era letteralmente stipata di geni. Era dunque uno dei ricevimenti di Lady Windermere meglio riusciti. La principessa vi si trattenne quasi fino alle undice e mezza. Appena se ne fu andata, Lady Windermere tornò nel Salone dei ritratti, dove un famoso economista stava spiegando con solennità la teoria scientifica della musica a un virtuoso ungherese dall'aria indignata, e cominciò a parlare con la duchessa di Pesli. Lady Windermere era incredibilmente bella, con la sua meravigliosa scollatura eburnea, i grandi occhi celesti, come non ti scordar di me, e una massa di capelli d'oro. Erano davvero orpio, non di quello slavato biondo paglierino che al giorno d'oggi usurpa il nome del glorioso oro, ma di quell'oro di cui sono intessuti i raggi del sole, o che si nasconde nelle ambre più straordinarie, e davano al suo viso un'aureola da santa non senza il fascino di una peccatrice. Ella era un soggetto interessante per studi psicologici. Ancora molto giovane, aveva scoperto la fondamentale verità che niente assomiglia tanto all'innocenza quanto l'avventatezza, e dopo una serie di audaci avventure, metà delle quali del tutto innocue, aveva conquistato tutti i privilegi di una persona importante. Aveva cambiato marito più di una volta. Debré le attribuiva almeno tre matrimoni, ma poiché era rimasta fedele al suo amante, il mondo aveva cessato da un pezzo di farne oggetto di scandali. A quell'epoca aveva quarant'anni, non aveva figli, e possedeva quella sregolata passione per i piaceri in cui consiste il segreto per restare giovani. A un certo punto scrutò con sguardo impaziente la sala, e chiese con la sua squillante voce di contralto, «Dov'è il mio chiromante?» «Il suo cosa, Gladys?» esclamò la duchessa, sobbalzando suo malgrado. «Il mio chiromante, duchessa! Non posso vivere senza di lui in questo momento!» «Oh mio Dio, Gladys! Lei è sempre talmente stravagante!» mormorò la duchessa, cercando di ricordarsi che cosa fosse in realtà un chiromante, e augurandosi in definitiva che non si trattasse di un semplice pedicure. «Mi viene a guardare la mano due volte alla settimana!» proseguì Lady Windermere. «È una cosa interessantissima, sa?» «Bontà divina!» pensò la duchessa. «Si tratta proprio di una specie di pedicure, dunque! Che orrore! Che almeno sia straniero! La cosa sarebbe un po' meno grave che se fosse inglese!» «Bisogna assolutamente che glielo presenti!» «Eh? Presentarmelo?» esclamò la duchessa. «Non vorrà mica farmi credere che si trova qui!» e così dicendo, prese a cercare disperatamente il suo piccolo ventaglio di tartaruga e un logoro scialletto di pizzo, in modo da esser pronta ad andarsene in qualsiasi momento. «Ma si capisce che è qui! Non mi sognerei nemmeno di dare un ricevimento senza di lui!» «Dice che ho una mano prettamente sensitiva, e che se il mio pollice fosse stato solo un poco più corto, sarei diventata una pessimista senza speranza e mi sarei rinchiusa in un convento!» «Ah, capisco!» esclamò la duchessa abbastanza sollevata. «È uno che predice la fortuna, non è così?» «E la sfortuna anche!» rispose Lady Windermere. «Sfortuna di ogni genere. L'anno prossimo, per esempio, io mi troverò in estremo pericolo, sia in terra che in mare. Perciò andrò ad abitare in una mongolfiera e mi farò mandare sulla cena ogni sera in un cestino. È scritto tutto sul mio mignolo, o sul palmo della mano, non ricordo bene. Mia cara Gladys, questo si chiama la provvidenza!» «Duchessa, stia tranquilla, che la provvidenza ormai è in grado di resistere a qualsiasi tentazione. Io trovo che tutti dovrebbero farsi leggere la mano almeno una volta al mese, in modo da sapere ciò che non si deve fare. Naturalmente poi lo si fa lo stesso, ma è talmente bello essere preavvertiti. «Beh, se ora qualcuno non mi va a chiamare il signor Podgers, dovrò andare io stessa!» «Permetta che ci vada io, Lady Windermere», disse un bel giovine alto che era rimasto lì vicino ad ascoltare la conversazione con un sorriso divertito. «Infinite grazie, Lord Arthur, ma temo che lei non saprebbe individuarlo. Se è così straordinario come lei dice, son certo che saprò riconoscerlo. Mi spieghi che aspetto ha e glielo porterò seduta stante. Oh, non ha affatto l'aria di un chiromante. Non è né misterioso, né esoterico, né romantico. È un ometto grasso con una buffissima testa pelata e grossi occhiali con la montatura d'oro. Una via di mezzo tra il medico di famiglia e il magistrato di provincia. Me ne dispiace molto, ma non è colpa mia. La gente è così indisponente. Tutti i miei pianisti hanno esattamente l'aria di poeti, mentre tutti i miei poeti assomigliano a pianisti. Ricordo di aver invitato a pranzo l'anno scorso un terribile terrorista, un uomo che aveva fatto saltare in aria non so più quante persone e che indossava giorno e notte un giubbetto d'acciaio e portava sempre nella manica della camicia un pugnale. «Ebbene, sa che quando me lo vidi comparire davanti avrei giurato che si trattasse di un bravo curato di campagna e non fece che scherzare e raccontare barzellette tutta la serata. Era molto divertente e via dicendo, certo, ma io ne rimasi terribilmente delusa e quando gli chiesi del giubbetto si mise a ridere e mi spiegò che era troppo freddo per indossarlo in Inghilterra. «Ah, ecco il signor Poggers. Presto, signor Poggers. Voglio che legga la mano alla duchessa di Pesley. Duchessa, si tolga il guanto, per favore. No, non la mano destra, l'altra». «Gladys cara, non credo che sia una cosa molto corretta», mormorò la duchessa, sbottonando a malincuore un guanto di capretto alquanto gualcito. «E quando mai le cose interessanti lo sono?», replicò Lady Windermere. «Ho una fila in mondo ansì, ma permetta che faccia le presentazioni. Duchessa, questo è il signor Poggers, il mio chiromante prediletto. E questa, signor Poggers, è la duchessa di Pesley. E se lei dirà che il suo monte della luna è più sviluppato del mio, non le rivolgerò mai più la parola». «Oh, Gladys, non credo che nella mia mano vi sia nulla di simile», osservò seria la duchessa. «Vostra grazia ha perfettamente ragione», disse il signor Poggers, fissando la piccola mano grassoccia dalle corte dita quadrate. «Il monte della luna è appena abbozzato. La linea della vita è invece stupenda. Pieghi il polso per cortesia. Grazie. Tre linee distinte sulla rachette. Lei vivrà sino a tardissima età, duchessa, e sarà estremamente felice. Ambizione... molto moderata. Linea dell'intelletto... non eccessiva. Linea del cuore... «Oh, la prego sia indiscreto, signor Poggers!» esclamò Lady Windermere. «Nulla mi darebbe maggior piacere», rispose Poggers inchinandosi. «Se la duchessa fosse mai stata una passionale, ma sono dolente di dire che io vedo una grande costanza negli affetti, combinata con un forte senso del dovere». «Per favore, continui, signor Poggers», disse la duchessa, che appariva ora molto soddisfatta. «L'economia non è certo l'ultima delle virtù di sua grazia», proseguì Poggers. Lady Windermere scoppiò in una risata argentina. «L'amore del risparmio è un'ottima qualità», osservò la duchessa con compiacenza. «Quando lo sposai, Pesli possedeva undici castelli, ma non aveva neanche una casa adatta ad abitarvi. E adesso ha dodici case e nemmeno un castello», riselè di Windermere. «Beh, mia cara», obiettò la duchessa. «A me piacciono... le comodità», proseguì Poggers. «È tutti ritrovati della tecnica moderna, compresa l'acqua calda corrente in ogni camera. Sua grazia ha perfettamente ragione. La sola cosa valida che la nostra civiltà riesce a darci è il comfort. Signor Poggers, lei ha descritto il carattere della duchessa in modo perfetto. Ora però deve leggere la mano anche a Lady Flora». In risposta a un cenno della sorridente padrona di casa, una ragazza alta, dai capelli color sabbia e dalle scapole sporgenti, avanzò goffamente da dietro il divano e tese al chiromante la lunga mano ossuta terminata da dita a spatola. «Ah, lei è pianista, vedo», disse Poggers. «Una pianista ottima, direi, ma forse non una musicista. Molto riservata e molto onesta. Amantissima degli animali». «Ma è esatto!», esclamò la duchessa avvolgendosi a Lady Windermere. «A Meklosky, Flora ha due dozzine di cani colli e sarebbe pronta a trasformare la nostra casa di città in un vero canile, se suo padre glielo permettesse». «Beh, è quello che faccio io in casa mia ogni giovedì sera!», esclamò Lady Windermere e rise. «Solo che io, ai cani da pastore, preferisco i leoni». «Ed è il suo unico difetto, Lady Windermere», disse il signor Poggers inchinandosi cerimoniosamente. «Se una donna non sa rendere attraenti i propri difetti, è solo una femmina», fu la risposta. «Ma lei ci deve leggere qualche altra mano, signor Poggers. Andiamo, Sir Thomas, gli mostri un po' la sua». E si fece innanzi un vecchio signore dall'aria cordiale, in sparato bianco, che tese una mano grossa e ruvida dal medio innaturalmente lungo. «Temperamento avventuroso, quattro lunghi viaggi in passato, un quinto in avvenire, naufragato tre volte, no, due soltanto, ma correrà il pericolo di far naufragio nel suo prossimo viaggio. Conservatore inveterato, molto preciso, appassionato collezionista di curiosità, ha avuto una grave malattia tra i sedici e i diciotto anni, ha ereditato una grossa fortuna verso i trenta, nutre una grande avversione per i gatti e i radicali». «Magnifico!» esclamò Sir Thomas. «Ora deve leggere anche la mano di mia moglie!» «Della sua seconda moglie!» precisò il signor Poggers senza scomporsi, sempre tenendo la mano di Sir Thomas fra le sue. «La sua seconda moglie sarà un onore per me!» «Ma Lady Marvel, una creatura dall'aspetto malinconico, bruna di capelli e dalle langui de ciglia, si rifiutò nettamente di rendere pubblico il proprio passato o il proprio avvenire. E per quanto facesse, Lady Windermere non riuscì a indurre l'ambasciatore russo, il signor De Koloff, neppure a togliersi il guanto. In realtà pareva che molti avessero il timore di affrontare quel buffo omino dal sorriso stereotipato, i suoi occhiali d'oro e i suoi piccoli occhi luccicanti. E quando disse alla povera Lady Fairmore, proprio di fronte a tutti, che a lei della musica non importava un bel niente, mentre aveva una passione per i bei musicisti, si ebbe la generale sensazione che la chiromanzia è una scienza estremamente pericolosa, che nessuno dovrebbe incoraggiare, tranne Tette a Tette. Ma Lord Arthur Saville, che non era al corrente dell'imbarazzante situazione in cui era stata messa Lady Fairmore, dopo aver osservato con grande interesse il signor Podgers, fu preso dall'irrefrenabile curiosità di farsi leggere la mano. Poiché tuttavia era un po' timido e non osava farsi avanti, attraversò il salone dirigendosi dove sedeva Lady Windermere e con un incantevole rossore sul volto le chiese se riteneva che il signor Podgers avrebbe avuto qualcosa in contrario. Ma certo che il signor Podgers non avrà niente in contrario, esclamò Lady Windermere. È qui per questo. Tutti i miei leoni, Lord Arthur, eseguono il loro numero e saltano attraverso il cerchio quando glielo chiedo. Ma prima devo avvisarla che riferirò a Sibyl ogni particolare. Verrà qui domani a colazione per parlare di cappellini e se il signor Podgers dovesse scoprire in lei un cattivo carattere o la tendenza alla gotta o una moglie che abita a Bayswater, stia pur certo che le racconterò ogni cosa. Lord Arthur sorrise e scosse la testa. Non devo temere niente da tutto ciò, rispose. Tra me e Sibyl non ci sono segreti. Mi dispiace un po' sentirle dire questa cosa. La vera base d'un matrimonio consiste nella incomprensione reciproca. No, non sono una donna cinica. Sono soltanto una donna che ha dell'esperienza. Ma in fondo è la stessa cosa, signor Podgers. Lord Arthur Savile ha una gran voglia di farsi leggere la mano. Non gli dica che è fidanzato con una delle più graziose signorine di Londra, perché la notizia è apparsa un mese fa sul Morning Post. La Marchesa di Jedburgh protestò. «Cara Lady Windermere, lasci che il signor Podgers rimanga ancora un po' di tempo con me. Mi ha appena rivelato che sono nata per recitare e trovo la cosa molto interessante. Se le ha detto questo glielo porterò via subito. Venga, venga qui subito, signor Podgers, e legga la mano al Lord Arthur». Lady Jedburgh si alzò dal sofà con una smorfietta e disse «Se non mi sarà concesso di calcare le scene, vorrei almeno far parte del pubblico». «Naturalmente ne faremo parte tutti», disse Lady Windermere. «E ora, signor Podgers, badi di dirci qualcosa di grazioso. Lord Arthur è tra i miei ospiti prediletti». Ma non appena il signor Podgers vide la mano di Lord Arthur, divenne singolarmente pallido e non disse una sola parola. Sembrò essere percorso da un brivido e aggrottò convulsamente le folte sopracciglia, in quel modo bizzarro e irritante che aveva quando era perplesso. Poi, come una rugiada venefica, grosse gocce di sudore gli imperlarono la fronte giallastra e le sue rose e dita grassocce si fecero fredde e viscide. Quella strana agitazione non poteva passare inosservata al Lord Arthur. Ebbe paura anche lui, per la prima volta nella sua vita. Dominò il suo primo impulso, che era stato quello di fuggire immediatamente dal salone, riflettendo sul fatto che era preferibile conoscere le cattive notizie, quali che fossero, piuttosto che rimanere in quella orrenda incertezza. «Signor Podgers, sto aspettando», disse. «Tutti stiamo aspettando», interloquì Lady Windermere con la sua abituale impazienza, ma il chiromante continuò a tacere. «Credo che anche nel destino di Arthur ci sia un palcoscenico», disse Lady Jedburgh. «E che dopo i suoi rimproveri il signor Podgers non abbia il coraggio di rivelarglielo». All'improvviso il signor Podgers lasciò cadere la mano destra di Lord Arthur e gli prese la sinistra. Per esaminarla, si era chinato tanto che i suoi occhiali d'oro parevano quasi sfiorargli il palmo. Per una frazione di secondo, il suo volto diventò una esangue maschera di orrore, ma recuperò immediatamente il suo sangfroid e sentenziò con un sorriso di circostanza in direzione di Lady Windermere. «Ecco la mano d'un giovanotto affascinante». «Certo che lo è», rispose Lady Windermere. «Ma sarà anche affascinante come marito? Voglio sapere proprio questo». «Tutti i giovanotti affascinanti lo sono», sentenziò Podgers. «Non credo sia bene che un marito debba essere troppo affascinante», mormorò Lady Jedburgh sopra pensiero. «È pericoloso». «Piccola mia», esclamò allora Lady Windermere, «non sono mai troppo affascinanti. Quello che voglio conoscere sono i particolari. Sono i particolari, la cosa interessante. Che cosa accadrà a Lord Arthur?» «Nei prossimi mesi Lord Savile farà un viaggio». «Già, la luna di miele. E perderà un parente». «Spero che non si tratti di sua sorella», fece Lady Jedburgh con voce compassionevole. Il signor Podgers fece un gesto che escludeva questa possibilità. «Non si tratta di sua sorella, ma ad un lontano parente. Sono terribilmente delusa», concluse allora Lady Windermere. «Non ho nessun particolare da riferire a Sibyl domani. Chi vuole che al giorno d'oggi si preoccupi per un lontano parente? Sono passati di moda da tanti anni. Comunque le consiglierò di farsi preparare un abito di seta nera, non si sa mai. Se non altro lo indosserà per andare in chiesa. E adesso andiamo tutti a cena. Gli altri ci avranno lasciato ben poco, ma almeno un po' di minestra dovremmo trovarla. Il mio François cucinava delle minestre straordinarie una volta, ma adesso è talmente sconvolto dai fatti della politica che non posso più contare troppo su di lui. «Ah, se quel generale Boulanger stisse un po' tranquillino. Duchessa, lei si è annoiata, vero? No, affatto, cara Gladys», rispose la duchessa mentre ancheggiava verso la porta. «Mi sono tanto divertita e il suo chiropodista... ma che dico, il suo chiromante è interessantissimo. Flora, dove è andato a finire il mio ventaglio di tartaruga?» «Oh, grazie, Sir Thomas, grazie mille. È il mio scialle di merletto, Flora! Oh, grazie, Sir Thomas, troppo gentile!» La suave creatura riuscì questa volta a scendere la scala, facendo cadere la sua fiala di profumo soltanto due volte. Nel frattempo, Lord Arthur Saville era rimasto in piedi accanto al caminetto, oppresso da un sentimento di paura e da una sensazione di sciagura incombente. Fece un mesto sorriso alla sorella, che gli passò accanto al braccio di Lord Plimedale. Deliziosa, in abito di broccato rosa, cosparso di perle, e odì confusamente la padrona di casa che gli chiedeva di seguirla. Pensava a Sibyl Merton, e gli occhi gli si velarono di lacrime all'idea che qualche ostacolo potesse frapporsi tra di loro. Se qualcuno lo avesse osservato in quel momento, avrebbe detto che Nemesi aveva rubato lo scudo di pallade e gli aveva mostrato il volto della gorgona. Sembrava impietrito, e il suo viso era di pietra nella sua malinconia. Aveva vissuto sino ad allora la vita di raffinatezze e lussi di un giovane ricco e di nobili natali. Ma una vita delicata, libera dai sordi di bisogni materiali, è vissuta all'insegna di una fanciullesca non curanza, e adesso per la prima volta era consapevole dei tremendi misteri del destino, del funesto significato della parola Fato. Tutto gli sembrava folle e mostruoso. Com'era possibile che sulla sua mano fosse scritto consegni a lui incomprensibili, ma che un altro poteva decifrare, il terribile segreto di qualche peccato, l'impronta sanguinosa di un delitto? Possibile che non si potesse sottrarre a quel futuro? Possibile che l'uomo sia soltanto una pedina mossa da un potere inconoscibile, recipiente modellato dal vasaio a suo piacimento per la gloria o per l'infamia? Per quanto la sua ragione si ribellasse a queste conclusioni, egli era sicuro ormai che su di lui incombeva un qualche tragico avvenimento e che improvvisamente era stato chiamato a sopportare pesanti sciagure. Come sono fortunati gli attori. Possono scegliere tra farsa e tragedia, tra il pianto e la risata. Nella vita questo non succede mai. La maggior parte di noi è forzata a interpretare una parte per la quale non è adatto. I Gildenstern recitano la parte di Amleto per noi e i nostri Amleti devono far ridere come i buffoni. Il mondo è un palcoscenico, ma le parti sono state distribuite male. Il signor Podgers entrò improvvisamente nella stanza. Sussultò appena vide Lord Saville e la sua grassa faccia volgare si fece d'un giallo verdastro. Ci fu silenzio mentre gli sguardi dei due uomini si incontravano. Alla fine parlò il signor Podgers. «La duchessa ha dimenticato qui un guanto e mi ha chiesto di portarglielo. Ecco, è lì sul divano. Buonasera. Signor Podgers, devo insistere per chi mi dia una franca risposta alla domanda che ora le rivolgerò. Un'altra volta, Lord Arthur, la duchessa è impaziente e temò quindi di dover andare. Lei non andrà via. La duchessa può aspettare. Non si deve mai far aspettare una dama, Lord Arthur», disse il signor Podgers con un sorriso ambiguo. «Il sesso debole non sa pazientare. Le sottili labbra ben disegnate di Lord Arthur si piegarono sdegnosamente. La povera duchessa sembrava non avere alcuna importanza in quel momento. Attraversò la sala e andò direttamente dal chiromante, tendendo verso di lui la mano. «Lei mi deve dire quel che vi ha letto. Voglio la verità. Esigo di conoscerla. Non sono un bambino». Gli occhi del signor Podgers parvero rimpicciolirsi dietro gli occhiali con la montatura d'oro. Spostava a disagio il peso del corpo da un piede all'altro, mentre giocherellava nervosamente con la vistosa catena dell'orologio. «Cosa le fa supporre, Lord Arthur, che nella sua mano io abbia visto più di quanto le ho riferito? Ne sono assolutamente certo, e insisto perché mi dica la verità. Pagherò. Le darò cento sterline». Gli occhi verdastri del chiromante ebbero un lampo di interesse, ma subito dopo tornarono opachi. «Guinee?» domandò alla fine con un filo di voce. «Certamente. Avrà un assegno domattina. Qual è il suo club? Non appartengo a nessun club, almeno per il momento. Il mio indirizzo è... Mi permetta di darle il mio biglietto». Estratto da un taschino del gilet, un cartoncino dal taglio dorato, con un inchino molto deferente, lo porse a Lord Arthur, il quale lesse «Signor Septimus R. Poggers, chiromante professionista. 103 Westmoon Street, Londra». Meccanicamente, il chiromante murmurò «Ricevo dalle dieci alle sedici e faccio uno sconto ai gruppi familiari». Ferreo in volto, Lord Arthur gli gridò «Faccia presto!» e gli porse la mano. Il signor Poggers si guardò attorno con un certo nervosismo. Poi tirò la pesante portiere davanti alla porta. «Ci vorrà un po' di tempo, Lord Saville. Le consiglio di sedersi». «Faccia presto!» ripetè l'aristocratico, battendo nervosamente il piede sul pavimento lucido. Il chiromante sorrise, trasse dal panciotto una piccola lente di ingrandimento e la pulì attentamente col fazzoletto. Poi disse «Sono pronto!» Pallido di terrore e con gli occhi stravolti dal dolore, Lord Arthur Saville uscì dieci minuti dopo da Bantic House, facendosi largo tra la folla di domestici impellicciati che stavano intorno all'ampia tenda. Sembrava non vedere né udire nulla, né un suono, né un gesto. Faceva molto freddo quella notte e le lampade a gas della piazza tremolavano nella sferza del vento, ma le sue mani scottavano come per febbre e la sua fronte ardeva come fuoco. Continuò a girovagare senza una meta. Il suo passo era incerto, come quello d'un ubriaco. Un poliziotto lo osservò sospettoso mentre passava e un mendicante sportosi da un passaggio avvolta per chiedere le lemosina sussultò di paura dinanzi a una sofferenza maggiore della sua. Lord Arthur si fermò sotto un lampione e si osservò le mani. Credette di vederle già macchiate di sangue e un grido soffocato uscì dalle sue labbra tremanti. «Assassinio!» Ecco quel che il chiromante aveva letto nella sua mano. «Assassinio!» La notte stessa pareva saperlo e il triste vento gli urlava questa parola nelle orecchie. Gli angoli bui delle vie ne erano pieni. L'assassinio lo osservava ghignando dai tetti delle case. Giunse prima al parco e sembrò essere affascinato da quel cupo paesaggio. Si appoggiò stanco al cancello e si rinfrescò la fronte contro il metallo umido mentre ascoltava l'incerto mormorio degli alberi. «Assassinio! Assassinio!» Continuava a ripetere come se in tal modo potesse mitigare l'orrore di quella parola. Persino il suono della sua voce lo faceva rabbrividire eppure quasi sperava che l'eco potesse udirlo e destare dai suoi sogni la città assopita. Provava il folle desiderio di raccontare tutto al primo passante che avesse potuto fermare. Poi andò su e giù per Oxford Street cacciandosi in alcuni stretti vicoli malfamati. Due donne vistosamente truccate lo presero in giro al suo passaggio. Da un cortile buio arrivarono le voci di gente che bestemmiava e si picchiava seguite da grida acute. Su un gradino scivoloso vide i corpi deformati dall'indigenza e dalla vecchiaia. Una strana sensazione di pietà lo invase. Erano quelle creature della miseria e del peccato destinate alla loro fine come lui alla sua. Come lui erano anche loro i semplici fantocci di una mostruosa rappresentazione. Eppure lo colpì più la commedia del dolore che il suo mistero. La sua totale inutilità. La sua grottesca mancanza di significato. Come tutto sembrava incoerente. Quale mancanza di armonia. Si stupì della enorme differenza tra lo stupido ottimismo del giorno e i fatti crudi dell'esistenza. Era ancora molto giovane. Qualche attimo dopo era davanti alla chiesa di Marilbon. La strada silenziosa era simile a un lunghissimo nastro di lucido argento interrotto a tratti dagli scuri arabeschi di ombre mutevoli. In lontananza le lampade a gas formavano una linea curva e tremolante e davanti a una cassetta circondata da mura era in sosta una carrozza. Dentro il cocchiere dormiva. Arthur affrettò il passo verso Portland Place guardandosi intorno di tanto in tanto come se temesse di essere seguito. All'angolo di Rich Street c'erano due uomini intenti a leggere un annuncio su una palizzata. Lo prese una strana curiosità e attraversò la strada. Mentre si avvicinava la parola assassinio stampata in eretto attrasse il suo sguardo. Trasalì un profondo rossore si diffuse sul suo volto. Nell'annuncio veniva offerta una ricompensa in cambio di una qualsiasi informazione che potesse portare all'arresto di un uomo di media statura d'età compresa tra i 30 e i 40 anni che indossava un cappello a bombetta un cappotto nero un paio di pantaloni a quadri e aveva una cicatrice sulla guancia destra. Lesse rilesse l'annuncio e si chiese se quel disgraziato sarebbe mai stato arrestato e perché avesse quella cicatrice. Forse un giorno anche il suo nome sarebbe comparso sui muri di Londra. Un giorno forse anche su di lui sarebbe stata posta una taglia. Il solo pensiero lo faceva star male per l'orrore. Fece un rapido dietrofront e si immerse nel buio della notte. Non sapeva neanche dove stesse andando. Più tardi ricordò vagamente di aver girovagato in un labirinto di case fatiscenti. Soltanto al sorgere del sole si ritrovò in Piccadilly Circus. Mentre tornava a casa dirigendosi verso Belgrave Square incontrò i grandi carri che andavano verso Covent Garden. I carrettieri con i camiciotti bianchi, le simpatiche facce abbronzate e le ruvide capigliature ricciute avanzavano pian piano schioccando la frusta e ogni tanto chiamandosi l'un l'altro. Sul dorso d'un maestoso cavallo bigio alla testa di tutto quel vociante corteo era seduto un bambino paffuto con un mazzolino di primule appuntato sul cappello sformato. Rideva beato mentre si teneva saldamente aggrappato con le manine alla criniera dell'animale. Le grandi cataste di ortaggi sullo sfondo del cielo mattutino sembravano masse di giada masse di verde giada che spiccavano sui petali d'una splendida rosa vermiglia. Suo malgrado e senza ragione Lord Arthur fu curiosamente commosso da questa scena. Nella tenue bellezza dell'alba c'era un chede indicibilmente dolce ed egli andò col pensiero a tutte le giornate che iniziano in bellezza e si chiudono nella tempesta. E anche quei campagnoli con quelle voci rozze e bonarie con quei modi scanzonati che strana Londra vedevano. Una Londra risorta dalle colpe della notte e dai fumi del giorno. Una città pallida e spettrale. Una desolata città di sepolcri. Si chiese cosa ne pensassero e se sapessero degli splendori e delle turpitudini e delle gioie impetuose e appassionatamente distorte della fame orribile e di tutto quello che dal mattino alla sera essa crea e distrugge. Per questa gente Londra era forse solamente un mercato dove portare a vendere la frutta in cui sostare al massimo poche ore lasciandola con le strade ancora silenziose e le case assopite. Fu contento di averli veduti passare nonostante la loro rozzezza le loro pesanti scarpe chiodate l'andatura impacciata portavano con sé un po' di Arcadia Arthur sentiva che avevano vissuto a contatto con la natura e questa aveva insegnato loro la pace li invidiò tutti per la loro innocenza quando arrivò in Belgrave Square il cielo era ormai quasi azzurro e già gli uccelli cominciavano a cinguettare dai giardini era mezzogiorno quando Lord Arthur si ridestò il sole allo zenith penetrava nella stanza attraverso tende di seta color avorio si alzò e andò a guardare fuori dalla finestra una debole foschia dovuta alla calura era sospesa sulla metropoli e i tetti delle case sembravano d'argento brunito nel tremolio del fogliame della piazza sottostante alcuni bambini volteggiavano come bianche farfalle e i marciapiedi erano affollati di gente che si recava al parco mai la vita gli era sembrata così bella mai il male così lontano poi il cameriere gli recò una tazza di cioccolato su un vassoio dopo averlo bevuto aprì una pesante portiera di felpa color rosa pesca e passò nella stanza da bagno dall'alto scendeva una luce morbida attraverso sottili lastre di onice trasparente e l'acqua nella vasca da bagno aveva un riverbero come di pietra lunare egli vi si immerse subito fino a far sfiorare la gola e i capelli dalle fresche increspature vi tuffò tutta la testa come per purificarsi da qualche ricordo vergognoso quando uscì dal bagno si sentì quasi pacificato con se stesso le ottime condizioni fisiche del momento avevano preso il sopravvento come spesso accade alle persone molto sensibili poiché i sensi come il fuoco possono purificare come distruggere dopo colazione si straiò su un divano e si accese una sigaretta sulla mensola del caminetto in una cornice di antico damasco c'era una grande fotografia di Sibyl Merton come l'aveva vista per la prima volta al ballo di Lady Noel la testa piccola finemente modellata era leggermente piegata come se il fragile collo stentasse a sopportare il peso di tanta beltà le labbra erano appena dischiuse e sembravano fatte per un canto suave e tutta la tenera innocenza della giovinezza pareva riflettersi nello stupore dei suoi occhi sognanti con un morbido e aderente abito in crepe de sheen e il grande ventaglio a forma di foglia somigliava a una di quelle delicate statuette che sono state ritrovate negli uliveti presso Tanagra c'era un'impalpabile aura di Grecia nella sua espressione e nella sua posa eppure ella non era petite era semplicemente perfettamente proporzionata caratteristica rara in un'età che fa apparire le donne o troppo più grandi di quel che dovrebbero essere oppure del tutto insignificanti nel contemplarla lord Arthur si sentì preso da quello straziante struggimento che ha le radici nell'amore si rese conto che se l'avesse sposata pur sapendo d'essere destinato a diventare un assassino avrebbe compiuto un tradimento simile a quello di Giuda un delitto ancor più efferato di tutti quelli immaginati dai Borgia come avrebbero potuto essere felici quando da un momento all'altro era destinato a compiere la terribile profezia scritta nella sua mano che vita sarebbe stata la loro mentre il fato teneva in serbo sul piatto della bilancia una simile sventura le nozze dovevano essere rimandate a qualunque costo su questo era irremovibile anche se amava teneramente Sibyl e anche se il semplice contatto delle dita di lei quando si sedevano vicini bastava a far vibrare di gioia squisita ogni innervo del suo corpo Arthur sapeva con chiarezza quale fosse il suo dovere ed era pienamente conscio del fatto che non aveva il diritto di sposarla sinché non avesse commesso il delitto commesso questo avrebbe potuto recarsi all'altare con Sibyl Merton e riporre la propria vita nelle mani di lei senza paura di rimorsi commesso questo avrebbe potuto prenderla tra le braccia consapevole che mai ella avrebbe dovuto arrossire per colpa sua mai avrebbe dovuto chinare il capo per la vergogna ma prima doveva essere commesso e per il bene di tutti e due il più presto possibile al posto di Lord Arthur molte altre persone avrebbero preferito la facile via del temporeggiamento all'arduo cammino del dovere ma lui era troppo coscienzioso per anteporre il piacere ai principi morali non c'era soltanto passione nel suo amore Sibyl era per lui il simbolo di tutto quel che è onesto e nobile per qualche momento provò una ripugnanza naturale per ciò che avrebbe dovuto compiere ma presto questa sensazione svanì il cuore gli diceva che non era un reato bensì un sacrificio la ragione lo persuase che non c'erano altre vie d'uscita doveva scegliere tra il vivere per sé e il vivere per gli altri e per quanto terribile fosse il compito che incombeva su di lui sapeva che non doveva permettere all'egoismo di prevalere sull'amore ognuno di noi è chiamato prima o poi a risolvere lo stesso problema a ognuno di noi viene posto prima o poi lo stesso dilemma al Lord Arthur fu posto molto presto prima che il suo animo fosse corrotto dal cinismo calcolatore dell'età matura o che il suo cuore fosse corroso dal superficiale egotismo alla moda dei nostri tempi e non ebbe esitazioni su quale fosse il suo dovere per sua fortuna non era un mero sognatore o un dilettante ozioso se lo fosse stato avrebbe esitato come amleto e lasciato che l'indecisione minasse il suo proposito egli era invece sostanzialmente un individuo pratico la vita era per lui azione più che pensiero possedeva una dote rarissima il buonsenso le torbide angosce della notte si erano completamente dileguate e ora quasi si vergognava dei pazzi vagabondaggi di strada del conflitto di emozioni che lo aveva scosso la stessa sincerità delle sue sofferenze gli sembrava ora irreale come poteva essere stato tanto sciocco da imprecare e infuriarsi contro l'inevitabile il solo problema che sembrava turbarlo era di uccidere poiché non ignorava il fatto che l'assassinio richiede come le religioni del mondo pagano una vittima e un sacerdote poiché non era un genio lord arthur non aveva nemici e d'altronde si rendeva conto che non era il momento di soddisfare un risentimento o un'antipatia personale data l'importanza e la grave solennità della missione in cui era impegnato scrisse su un foglio del tacquino l'elenco dei suoi amici e parenti e dopo un attento esame si decise in favore di lady clementina Beauchamp una cara vecchia signora che abitava in carlson street sua cugina in secondo grado per via di madre lord arthur era sempre stato molto affezionato a lady clementina così tutti la chiamavano e dato che era molto ricco grazie all'eredità lasciatagli da lord rugby e della quale era entrato in possesso al momento della maggiore età non c'era pericolo che traesse da quella morte alcun volgare vantaggio economico più rifletteva e più lady clementina gli sembrava la persona adatta al caso suo e poiché ogni attesa gli sembrava un torto verso sibyl decise di prendere provvedimenti al più presto la prima cosa da fare era saldare il conto con il chiromante si sedette dunque a una piccola scrivania Sheraton presso la finestra e riempì un assegno di 105 sterline pagabile all'ordine del signor Septimius Podgers e chiusolo in una busta lo fece recapitare dal suo domestico a Westmoon Street telefonò quindi alla scuderia dando ordine di attaccare la carrozza e si vestì per uscire nel lasciare la stanza si voltò a guardare il ritratto di Sibyl Morton e giurò che qualunque cosa succedesse non gli avrebbe mai svelato ciò che aveva fatto per amor suo ma avrebbe celato per sempre nel cuore il segreto del suo terribile sacrificio sulla via per Buckingham Club si fermò da una fioraia e mandò a Sibyl un bel cestino di narcisi dai bianchi petali vivacemente picchiettati arrivato al club entrò in biblioteca e suonò il campanello per ordinare al cameriere di portargli una limonata con soda e un trattato di tossicologia aveva già deciso che il veleno era il mezzo migliore da adottare nel suo fastidioso caso la violenza era contraria al suo carattere e inoltre si preoccupava molto di sopprimere Lady Clementina senza attirare l'attenzione del pubblico perché odiava anche solo l'idea di diventare una delle celebrità di Lady Windermere o di vedere il suo nome sulle colonne d'un volgare quotidiano doveva tener presenti poi i genitori di Sibyl persone alquanto all'antica che si sarebbero probabilmente opposte alle nozze in caso di scandalo sebbene fosse convinto che si avesse narrato loro per filo e per segno come stavano le cose sarebbero stati i primi ad apprezzare i motivi che lo spingevano ad agire egli aveva dunque ragione di scegliere il veleno che era discreto infallibile e agiva in silenzio ed evitava quelle scene penose che tanto ripugnano alla sensibilità britannica tuttavia ignorava assolutamente tutto della tossicologia e poiché il cameriere non trovava altro che la roughs guide e il bailes magazine si diede a esaminare personalmente i titoli dei libri finché trovò un'edizione ben rilegata della farmacopea e una copia della tossicologia di Erskine curato da Sir Matthew Raid presidente della Royal College of Physicians è uno dei più vecchi membri del Buckingham essendo stato eletto per errore invece di un altro candidato un contre-Tams che aveva tanto irritato i membri della commissione da indurli quando si era presentato il vero candidato a votare contro di lui all'unanimità i termini scientifici usati dai due libri confusero un bel po' Lord Arthur che rimpianse di non aver prestato sufficiente attenzione ai classici a Oxford ma nel secondo volume dell'Erskine trovò finalmente un'interessantissima e completa dissertazione sulle proprietà della conitina scritta in un inglese abbastanza comprensibile era proprio questo il veleno che cercava agiva rapidamente senza procurare spasmi e usato in una capsula di gelatina come consigliava Matthew Raid non era nemmeno sgradevole al gusto annotò sul polsino della camicia la dose necessaria a produrre effetto mortale rimise i volumi al loro posto uscì e percorse St. James Street dirigendosi verso la grande farmacia Pestle & Humby il signor Pestle che serviva sempre di persona ai suoi clienti del gran mondo si meravigliò della richiesta di Lord Arthur e con grande deferenza mormorò qualcosa sulla necessità di avere una ricetta ma appena Lord Arthur rispose che il veleno gli occorreva per sopprimere un grosso mastino norvegese di cui era costretto a liberarsi perché mostrava segni incipienti di idrofobia e già due volte aveva morso il polpaccio del cocchiere il farmacista si dichiarò del tutto soddisfatto si congratulò con Lord Arthur per la sua stupefacente cultura in tossicologia e preparò immediatamente la prescrizione Lord Arthur chiuse la capsula in una graziosa bomboniere d'argento prelevata da una vetrina di Bond Street gettò via la brutta scatoletta di Pestle & Humby e si diresse subito verso la casa di Lady Clementina ebbene Monsieur Le Mauvais Suger esclamò la vecchia signora entrando nella stanza perché non siete venuti a trovarmi per tutto questo tempo mia cara Lady Clem rispose Lord Arthur sorridendo non ho mai un momento libero suppongo perché passi tutto il tempo con Sibyl Merton comperando chiffon e dicendo sciocchezze non riesco a capire perché la gente si agiti tanto quando deve sposarsi ai miei tempi non ci sognavamo nemmeno di tubare in pubblico e se per questo nemmeno in privato le assicuro Lady Clem che non vedo Sibyl da 24 ore per quel che ne so io deve essere stata sequestrata dalle sue modiste naturalmente è la sola ragione per cui sei venuto a trovare una vecchia brontolona come me mi stupisco che voi uomini non impariate mai niente ho una fede folie pour moi ed eccomi qua vecchia piena di reumi con la parrucca e un pessimo carattere se la cara Lady Jensen non mi mandasse i peggiori romanzi francesi che riesce a trovare non so proprio come passerei le giornate l'unica cosa che i dottori sanno fare è incassare le proprie parcelle non riescono nemmeno a guarire il mio bruciore di stomaco io le ho portato un rimedio per questo disse Arthur con gravità si tratta ad un rimedio portentoso scoperto da un americano non amo le invenzioni americane Arthur sono certa che non mi piacciono ho letto recentemente alcuni romanzi americani erano pieni di assurdità ma questo è un prodotto serissimo Lady Clem le assicuro che è una medicina unica nel suo genere deve promettermi che la proverà il lord Arthur trasse di tasca la scatolina e la porsi a Lady Clementina la bomboniere almeno è graziosa Arthur è proprio un regalo è molto gentile da parte tua e questa è la medicina miracolosa sembra proprio un bonbon lo prenderò subito santo cielo no Lady Clem esclamò lord Arthur afferrandole la mano lei non deve fare nulla di simile è una medicina omeopatica la deve prendere durante un attacco altrimenti non avrà nessun effetto aspetti fino a quando avrà un attacco sarà stupefatta dal risultato eppure me lo mangerei subito insistette Lady Clem mentre guardava contro luce la piccola capsula trasparente in cui fluttuava la bolla di aconitina liquida sono certa che è delizioso io vedi caro detesto i medici ma vado pazza per le medicine ma la conserverò sino al prossimo attacco lord Arthur allora le chiese con una certa ansia e quando pensa che lo avrà presto non prima ad una settimana spero ieri mattina ne ho avuto uno tremendo ma non si sa mai è proprio sicura che avrà un attacco prima della fine del mese Lady Clem ho paura di sì ma come sei affettuoso oggi Arthur evidentemente Sibyl ha un'influenza benefica su di te e ora ti consiglio di scappare perché devo cenare con gente noiosissima che non parla di scandali e so già che se non schiaccio un pisolino adesso non riuscirò a star sveglia durante il pranzo arrivederci Arthur e tanti affettuosi saluti a Sibyl e grazie mille per la medicina americana non dimenticherà di prenderla Lady Clem vero non me ne scorderò di certo scioccone è stato infinitamente gentile da parte tua pensare a me ti scriverò se m'occorressero altre capsule Lord Arthur uscì d'ottimo umore con un senso di immenso sollievo la sera ebbe un colloquio con Sibyl Merton le disse come si fosse trovato improvvisamente in una situazione molto delicata da cui nel dovere e nell'onore gli permettevano di ritirarsi e che perciò il loro matrimonio doveva essere per il momento rimandato perché sino a quando non si fosse liberato da queste terribili complicazioni non era un uomo libero la supplicò di aver fiducia in lui e di non dubitare dell'avvenire tutto si sarebbe sistemato ma era necessario pazientare il colloquio ebbe luogo nella serra della casa del signor Merton in Park Lane dove Lord Arthur aveva cenato secondo il solito Sibyl non gli era sembrata mai tanto felice e per un momento lo aveva assalito la vile tentazione di scrivere a Lady Clem a proposito della pillola e di sposarsi il giorno fissato come se non esistesse al mondo un signor podgers ma vinse la parte migliore della sua natura e anche quando Sibyl gli si gettò piangendo tra le braccia non ebbe esitazioni il fascino che colpiva i suoi sensi toccava pure la sua coscienza sentì che distruggere quella dolcissima vita per il piacere di pochi mesi sarebbe stato un irrimediabile errore rimase fin quasi a mezzanotte con Sibyl rincuorandola ed essendone rincuorato a sua volta e l'indomani mattina all'alba partì per Venezia dopo aver scritto al signor Merton una lettera virile e ferma in cui diceva che era necessario rimandare la data del matrimonio a Venezia Arthur incontrò suo fratello Lord Sarbiton giunto per caso in yacht da Corfu i due giovani trascorsero insieme quindici giorni deliziosi la mattina passeggiavano a Lido o scivolavano su e giù per i verdi canali con la loro lunga gondola nera nel pomeriggio ricevevano a bordo dello yacht e la sera cenavano al Florian e fumavano innumerevoli sigarette sulla piazza pure Lord Arthur non era felice ogni giorno esaminava le colonne dei necrologi sul Times cercandovi la notizia della morte di Lady Clementina ma ogni giorno l'aspettava una delusione cominciò a temere che le fosse accaduto qualche cosa e spesso rimpianse di non averle lasciato prendere la conitina quando ella era stata tanto impaziente di provarne l'effetto anche le lettere di Sibyl sebbene piene d'amore sincere e tenere erano spesso molto tristi e talvolta egli pensava che si era allontanato da lei per sempre dopo quindici giorni Lord Sarbiton si stancò di Venezia e decise di discendere la costa fino a Ravenna perché aveva sentito dire che nella pineta vi si cacciava meravigliosamente il gallo selvatico Lord Arthur dapprima rifiutò decisamente di andare con lui ma il fratello a cui era molto affezionato alla fine lo persuase dicendo che se fosse rimasto solo al Danieli sarebbe morto di noia così al mattino del quindici partirono con un forte vento di nord-est e un mare piuttosto mosso si divertirono molto e la vita libera all'aria aperta riportò il colore sulle guance di Lord Arthur ma verso il 22 egli cominciò nuovamente a preoccuparsi per Lady Clementina e incurante delle rimostranze del fratello ritornò in treno a Venezia mentre scendeva dalla gondola sui gradini dell'albergo il proprietario gli andò incontro con un fascio di telegrammi Lord Arthur glieli strappò dalle mani e li aprì era andato tutto bene Lady Clementina era morta improvvisamente durante la notte del 17 il suo primo pensiero fu per Sibyl a cui mandò un telegramma che annunziava il suo immediato ritorno a Londra poi ordinò al suo cameriere di preparare subito i bagagli per la notte pagò ai gondolieri il quintuplo della tariffa e corse nel suo salotto con passo leggero e cuore esultante lo aspettavano tre lettere una di Sibyl piena di affetto e di condoglianze le altre erano di sua madre e dell'avvocato di Lady Clementina apprese da queste che la vecchia signora aveva cenato quella sera con la duchessa divertendo la compagnia con la sua vivacità e il suo esprit ma era poi rincasata molto presto lamentandosi di un bruciore di stomaco la mattina seguente era stata trovata nel suo letto morta pareva senza soffrire avevano subito chiamato Sir Matthew Reed ma ovviamente non vera nulla da fare e sarebbe stata sepolta il 22 a Beauchamp Chalcott pochi giorni prima di morire aveva fatto testamento lasciando a Lord Arthur la sua casetta di Carson Street il mobilio le sue cose personali e i quadri a eccezione della collezione di miniature che lasciava alla sorella Lady Margaret Rafford e di un braccialetto di ametiste che regalava a Sibyl Merton non era un'eredità di molto valore ma l'avvocato Mansfield pregava insistentemente Lord Savile di tornare al più presto perché vi erano molte fatture da regolare e Lady Clementina non aveva mai tenuto i conti in ordine il fatto che Lady Clementina si fosse ricordata affettuosamente di lui commosse molto Lord Arthur ed egli pensò che il signor Podgers aveva una grande responsabilità pure il suo amore per Sibyl superava ogni altra emozione e gli dava serenità e conforto la consapevolezza di aver fatto il suo dovere quando arrivò a Charing Cross si sentiva proprio felice l'accoglienza dei Merton fu cordialissima Sibyl gli fece promettere che nulla li avrebbe più divisi e il matrimonio fu fissato per il 7 giugno la vita gli sembrava ancora una volta bella e luminosa ed egli tornò di nuovo a essere allegro e spensierato ma un giorno mentre si trovava nella casa di Carson Street con l'avvocato di Lady Clementina e Sibyl stessa bruciando fasci di vecchie lettere e vuotando cassetti colme di cose inutili la fanciulla diede in un'esclamazione di gioia che cosa hai trovato domandò Lord Arthur distraendosi con un sorriso dal suo lavoro questa graziosissima bombognier d'argento Arthur è molto originale vero e deve essere olandese dall'ame so che le ametiste non mi staranno bene finché non avrò passato gli 80 anni era la scatoletta che aveva contenuta la conitina Lord Arthur trasalì e un leggero rossore gli salì al volto aveva quasi dimenticato il suo delitto e gli sembrò una strana coincidenza che Sibyl per la quale aveva sofferto tutte quelle terribili angosce fosse la prima a richiamarglielo alla memoria ma certo Sibyl prendila la regalai io stesso alla povera Lady Clementina grazie Arthur posso prendere anche il bonbon non sapevo che Lady Clementina fosse golosa la consideravo anche troppo intellettuale Lord Arthur divenne pallidissimo e un terribile pensiero lo colpì un bonbon che vuoi dire domandò con voce bassa e roca ce n'è solo uno all'aria vecchia è polverosa e non ho davvero voglia di assaggiarlo ma che cosa hai Arthur come sei pallido Lord Arthur attraversò di corsa la stanza e afferrò la scatoletta conteneva la capsula color d'ambra con la sua perla di veleno Lady Clementina era dunque morta di morte naturale troppo forte fu per lui il colpo di questa scoperta gettò la capsula nel fuoco e con un grido di disperazione si abbatté sul divano il signor Merton si dispiacque molto apprendendo che il matrimonio di Sibyl sarebbe stato rimandato una seconda volta e Lady Julia che aveva già ordinato l'abito per la cerimonia cercò in ogni modo di far rompere alla figlia quel fidanzamento ma sebbene la fanciulla amasse teneramente la madre ella aveva messo tutta la sua vita nelle mani di Lord Arthur e nulla di quanto la madre gli diceva poteva scuotere la sua fiducia in lui quanto ad Arthur gli ci vollero vari giorni per superare la terribile delusione e per un certo tempo il suo sistema nervoso fu assolutamente a pezzi pure il suo eccezionale buonsenso lo sostenne e la sua mente sana e pratica non lo lasciò esitare a lungo su quel che doveva fare poiché il veleno si era dimostrato un completo fallimento la cosa adatta con cui tentare era la dinamite o un'altra specie di esplosivo esaminò dunque ancora la lista dei suoi parenti e amici e dopo una lunga riflessione decise di far saltare in aria suo zio il reverendo decano di Chichester il decano che era un uomo di grande cultura e sapienza aveva una mania per gli orologi e possedeva una meravigliosa collezione di esemplari dal 400 fino ai moderni e questa mania del buon decano sembrò a Lord Arthur una eccellente occasione per realizzare il suo progetto come e dove procurarsi un congegno esplosivo era più difficile la guida di Londra non gli fornì alcuna informazione in proposito e pensò che rivolgersi a Scotland Yard sarebbe stato del tutto inutile in quanto è noto che la polizia ignora gli spostamenti dei dinamitardi sino a quando non ha avuto luogo un'esplosione e anche allora non sembra saperne molto di più all'improvviso gli venne in mente di rivolgersi al suo amico Ruvalov un giovanotto russo di tendenze rivoluzionarie che aveva conosciuto l'inverno precedente a un ricevimento di Lady Windermere si diceva che il conte Ruvalov stesse scrivendo una biografia di Pietro il Grande e che si fosse regato in Inghilterra per consultare i documenti riguardanti il soggiorno dello zar in questo paese in qualità di carpentiere navale ma tutti sospettavano in generale che Ruvalov fosse un agente nichilista e infatti non si poteva dire che la sua presenza fosse gradita all'ambasciata di Russia Lord Arthur pensò che era proprio la persona che faceva per lui e così una mattina si recò a fargli visita nella sua abitazione di Bloomsbury per domandargli qualche utile consiglio allora si è deciso a entrare in politica gli chiese il conte Ruvalov dopo che Arthur gli ebbe reso noto il motivo della visita il Lord detestava ogni sorta di millanteria e si sentì quindi in dovere di rivelargli che non provava nessun interesse per le questioni sociali voleva solamente entrare in possesso di un qualsiasi congegno esplosivo per motivi personali che riguardavano soltanto lui per un attimo il conte Ruvalov lo guardò stupito ma poi vedendo che l'altro aveva parlato con estrema serietà scrisse un indirizzo su un foglio di carta lo contrassegnò con una sigla e glielo passò sopra il tavolo a Scotland Yard sarebbero disposti a pagare a caro prezzo questa informazione a me con mio non l'avranno esclamò Lord Arthur ridendo dopo aver stretto calorosamente la mano all'amico russo scese di corsa esaminò il foglio e disse al cocchiere di portarlo in Soho Square quando fu lì percorse Greek Street finché giunse in un luogo chiamato Baleskirt passò sotto un passaggio a volta e si trovò in un curioso vicolo cieco apparentemente sede di una lavanderia francese poiché una rete di corde per stendere i panni si stendeva da una casa all'altra e la brezza mattutina faceva ondeggiare tutta quella linda biancheria si diresse in fondo e bussò alla porta di una casetta verde dopo un certo tempo durante il quale in ogni finestra si affollarono facce scrutatrici la porta fu aperta da uno straniero dall'aria decisa che gli chiese in cattivissimo inglese che cosa volesse lord arthur gli porse il foglio datogli da ruvaloff quando l'uomo lo vide fece un piccolo cenno di assenso e invitò lord arthur a entrare in uno squallido salottino al pian terreno dopo qualche momento ervin kelkoff questo era il nome con cui era noto in inghilterra entrò nella stanza con un tovagliolo tutto macchiato di vino al collo e una forchetta nella sinistra e il conte ruvaloff mi ha dato un biglietto di presentazione per lei disse lord arthur con un inchino e sono ansioso di parlare con lei per una questione di affari mi chiamo smith robert smith vorrei che lei mi procurasse un orologio esplosivo lieto di fare la sua conoscenza lord arthur esclamò sorridendo quel simpatico piccolo tedesco non tema fa parte delle mie mansioni conoscere tutti e ricordo di averla vista una sera in casa di lady windermere mi auguro che sua signoria goda di ottima salute le dispiacerebbe farmi compagnia mentre finisco di mangiare posso offrirle un patè davvero eccellente gli amici sono poi così gentili da affermare che il mio vino del reno è migliore di quello offerto all'ambasciata di germania e prima che lord arthur si riavesse dalla sorpresa per essere stato riconosciuto si trovò seduto in una stanza interna della casetta a gustare un delizioso marco brunner in un calice color paglierino su cui era inciso il monogramma imperiale e a conversare con estrema cordialità con quel noto terrorista gli orologi esplosivi non sono molto adatti per esportarli all'estero gli spiegò Erwin Kelkoff anche se riescono a passare la dogana il servizio ferroviario è così regolare che di solito esplodono prima di essere arrivati a destinazione tuttavia se lei ne vuole uno per uso locale le posso fornire un articolo davvero eccellente e le garantisco che sarà soddisfatto del risultato posso chiederle il nome del destinatario perché vede se è per la polizia o per qualcuno legato a Scotland Yard temo di non poterla proprio aiutare la polizia inglese è davvero la nostra migliore alleata e ho sempre trovato che affidandoci alla loro stupidità possiamo fare esattamente quel che vogliamo non potrei fare a meno neanche d'uno solo di loro le do formale assicurazione che nel mio caso la polizia non c'entrerà affatto in realtà l'orologio è destinato al decano di Chichester buon dio non immaginavo che detestasse a tal punto la religione sono pochi oggi giovani da bene che condividono i suoi sentimenti temo che lei mi sopravvaluti Erwin Kelkoff disse Lord Arthur arrossendo per essere sincero la teologia non mi interessa si tratta allora di una questione personale strettamente personale Erwin Kelkoff si strinse nelle spalle e uscì tornò qualche minuto dopo con una tavoletta di dinamite delle dimensioni di un penny e con un piccolo orologio francese sormontato dalla effigie di una libertà intenta a schiacciare l'idra del dispotismo appena lo vide il volto di Arthur si rischiarò è proprio quello che voglio esclamò e adesso la prego mi insegni a farlo funzionare ah no questo è un mio segreto rispose Erwin Kelkoff contemplando con giusto orgoglio la sua invenzione lei deve soltanto farmi sapere quando vuole che avvenga l'esplosione e io regolerò il congegno per quel momento dunque oggi siamo a martedì se lei me lo manda subito non è possibile ho molto importante lavoro da sbrigare per alcuni amici di Mosca però potrei mandarglielo domani va bene purché mi sia consegnato domani sera o mercoledì mattina rispose cortesemente lord arthur quanto al momento dell'esplosione facciamo venerdì a mezzogiorno in punto il decano a quell'ora è sempre in casa venerdì ore dodici ripete Erwin Kelkoff annotandolo su un gran libro mastro posto sulla scrivania accanto al camino lord arthur si alzò e adesso per favore mi dica quel che le devo non merita parlarne è una tale sciocchezza la dinamite si trova a sette scellini e sei penni l'orologio costa tre sterline e mezzo e il trasporto cinque scellini quanto a me è stato un piacere servire uno degli amici del conte Ruvalov ma per il disturbo ma che disturbo gliel'ho già detto è stato un piacere io non lavoro per danaro io vivo solamente per la mia arte lord arthur mise quattro sterline due scellini e sei penni sul tavolo ringraziò il piccolo tedesco per la sua cortesia e dopo aver garbatamente declinato l'invito a uno spuntino per incontrarvi alcuni anarchici il sabato seguente lasciò la casa e andò a passeggiare nel parco per i due giorni successivi fu notevolmente eccitato e finalmente il venerdì alle 12 si diresse verso il Buckingham aspettando notizie in tutto il pomeriggio lo stupido portiere del circolo recapitò dispacci provenienti da varie località in cui si davano i risultati delle corse dei cavalli le sentenze dei processi di divorzio le condizioni atmosferiche e roba del genere mentre il tasto del telegrafo ticchettava i noiosi particolari di una seduta notturna alla Camera dei Comuni e quelli di un piccolo panico in borsa i giornali della sera arrivarono alle 4 e il Lord Arthur si appartò nella sala di lettura con le copie del Palmal del St. James del Globe e dell'Eco con tremenda indignazione del colonnello Goodchild che era impaziente di leggere i resoconti di un discorso da lui tenuto quella mattina alla Mansion House a proposito delle missioni in Sudafrica con la proposta di nominare Vescovi Negri in ogni provincia e che per qualche ragione nutriva una spiccata avversione per l'Evening News ma nessun giornale conteneva una qualsiasi allusione a Chichester e il Lord Arthur arrivò alla conclusione che il suo attentato poteva considerarsi fallito fu un colpo terribile per lui e per qualche ora fu preso dalla desolazione il giorno dopo andò a trovare Erwinkelkoff costui non fece che scusarsi con giustificazioni molto circostanziate offrendosi di pagare un altro orologio di tasca sua o di fornire una cassetta di bombe alla nitroglicerina a puro prezzo di fabbrica Lord Arthur però aveva perso ogni fiducia negli esplosivi e Erwinkelkoff fu il primo a riconoscere che al giorno d'oggi ogni cosa è talmente adulterata che nemmeno la dinamite può essere più considerata pura il piccolo tedesco pur supponendo che poteva essere capitato qualcosa al congegno a orologeria sperava ancora che da un momento all'altro il marchigegno funzionasse citava il caso di un barometro da lui inviato al governatore militare di Odessa che avrebbe dovuto esplodere entro dieci giorni e che invece era scoppiato dopo tre mesi bisogna anche dire che quando finalmente si decise a esplodere riuscì soltanto a far saltare in aria una domestica in quanto il governatore si era assentato dalla città alcune settimane prima ma almeno si dimostrava così che la dinamite tenuta sotto controllo era un mezzo di insuperata efficacia come forza distruttiva efficace ma non sempre puntuale Lord Arthur si sentì un po' rincuorato da questo ragionamento ma era destino che fosse deluso anche questa volta poiché appena due giorni dopo mentre saliva al suo appartamento la duchessa sua madre lo chiamò in salotto per mostrargli la lettera che aveva appena ricevuto dalla canonica di Chichester Jane mi scrive lettere così carine disse leggi quest'ultima non ha niente da invidiare ai romanzi che la cara Maddy ci spedisce di tanto in tanto Lord Arthur quasi le strappò il foglio di mano diceva canonica di Chichester 27 maggio carissima zia grazie mille per la flanella per la Dorcas Society e anche per il percalle sono d'accordo con te è assurdo che certa gente voglia vestirsi bene ma oggi sono tutti così ridicoli così religiosi che è difficile convincerli che non dovrebbero pretendere di vestirsi come le classi superiori davvero non so dove andremo a finire di questo passo ha ragione papà quando afferma spesso nelle sue prediche che ormai viviamo in un'epoca di miscredenti ci siamo tutti tanto divertiti per via ad un orologio inviato a papà da un suo ignoto ammiratore giovedì scorso è arrivato da Londra in un astuccio di legno in Porto Franco papà è convinto che gli sia stato mandato da qualche lettore del suo sermone la licenza e forse libertà perché l'orologio era sormontato da una figuretta femminile che aveva in testa un berretto che papà sostiene essere un berretto frigio non mi sembra che sia molto appropriato ma papà dice che è storico perciò suppongo che abbia ragione lui Parker ha aperto la confezione e l'orologio è stato messo da papà sulla mensola del camino in biblioteca e venerdì mattina eravamo tutti seduti lì quando a mezzogiorno in punto si è udito un rumore meccanico e una nuvoletta di fumo rosa è uscita dal piedistallo della statuina la libertà è caduta a terra e si è sbucciata il naso contro il parafuoco Mary si è spaventata ma in realtà è stata una scena così ridicola che James e io ci siamo messi a ridere e persino papà si era divertito quando abbiamo esaminato meglio l'orologio abbiamo visto che era una specie di sveglia anche se caricata per una data ora e dopo aver messo un po' di polvere da sparo e una miccia sotto il martelletto può fare quello scherzetto ogni volta che si vuole papà ha detto che non vuole l'orologio in biblioteca perché fa troppo rumore e così Reghi l'ha portato nello studio e adesso si diverte tutto il santo giorno a provocare esplosioni in miniatura credi che ad Arthur un regalo simile piacerebbe per le sue prossime nozze immagino che questi orologi siano l'ultima moda di Londra papà ha detto che possono essere molto utili perché dimostrano che la libertà ha i giorni contati e che è destinata prima o poi a cadere la libertà è sempre papà che lo dice fu inventata all'epoca della rivoluzione francese mi vengono i brividi devo smettere di scrivere perché mi aspettano alla Dorcas Society dove darò pubblica lettura della tua lettera così edificante hai proprio ragione zietta cara quando scrivi che tenuto conto della loro posizione in società dovrebbero indossare soltanto abiti goffi devo dire che trovo ridicola la loro ossessionante mania dei vestiti quando esistono cose molto più serie in questo mondo e in quello futuro come son contenta che il tuo abito in popelina a fiori sia riuscito bene e che il merletto non si sia lacerato mercoledì al ricevimento del vescovo metterò il vestito di raso giallo quello che mi hai gentilmente regalato tu penso che farò un figurone credi che dovrei aggiungerci qualche nastro Jennings mi dice che tutti ne portano adesso e che la sottogonna dovrebbe essere arricciata Reghi ha fatto fare all'orologio un'altra esplosione e papà ha dato ordine di portare subito quell'orologio nelle scuderie evidentemente non gli piace più come prima anche se è stato lusingato dal fatto che qualcuno gli abbia regalato un giocattolo tanto ingegnoso e segno evidente che la gente legge i suoi sermoni e ne trae anche profitto papà ti ricorda con immutato affetto e così anche James Reghi e Mary nella speranza che la gotta di zio Cecil migliori credimi zietta cara la tua affezionata nipote Jane Percy PS fammi sapere la tua opinione sui nastri Jennings insiste dicendo che sono l'ultima moda Lord Arthur sbirciò la lettera con un'aria così delusa e avvilita che la duchessa scoppiò a ridere Arthur caro mai più ti mostrerò la lettera ad una ragazza che ne dici di quell'orologio che trovata vorrei averne uno anch'io non ho alcuna fiducia in questi marchi ingegni rispose Arthur con un mesto sorriso dopo aver baciato sua madre lasciò la stanza quando fu al piano superiore si buttò sul divano e i suoi occhi si riempirono di lacrime aveva fatto tutto quel che poteva per commettere subito un delitto e per due volte i suoi tentativi erano stati un fiasco e non per colpa sua aveva cercato di fare quel che riteneva suo dovere ma sembrava che il destino lo tradisse in continuazione si sentiva annientato dalla inutilità delle sue buone intenzioni non valeva la pena ad essere un uomo probo forse sarebbe stato meglio rompere il fidanzamento definitivamente è vero che Sibyl avrebbe sofferto ma il dolore non avrebbe alterato un indole nobile quanto la sua e per lui la cosa non aveva importanza c'è sempre una guerra in cui un uomo può morire qualche causa per cui un uomo può dare la vita e giacché la vita non aveva più gioie per lui la morte non lo spaventava si compisse dunque la parabola del suo destino non avrebbe fatto niente per impedirlo alle sette e mezzo si vestì e si diresse al club vi trovò Sarbiton in compagnia ad un gruppo di elegantoni e fu costretto a pranzare con loro la loro vuota conversazione i loro frivoli scherzi non gli interessavano e appena servito il caffè si eclissò adducendo a un impegno precedente mentre stava uscendo dal club il portiere gli dette una lettera era di Herr Winkelkopf che gli domandava di andarlo a trovare la sera dopo per esaminare un ombrello esplosivo che scoppiava appena veniva aperto ultima novità arrivata da Ginevra strappò la lettera in mille pezzi aveva deciso di non compiere altri tentativi camminò allora senza una meta lungo il Tamigi e rimase seduto per ore sull'argine del fiume apparve la luna attraverso una fulva criniera di nubi come fosse un occhio di leone innumerevoli stelle trapuntavano la volta del cielo come polvere d'oro sparsa su una cupola purpurea ogni tanto un barcone prendeva il largo nella torbida corrente e scivolava via spinto dalla marea e i segnali della ferrovia da verdi si facevano scarlatti mentre i treni traversarono il ponte fischiando dopo un certo tempo la mezzanotte rintoccò dalla torre di Westminster e a ogni colpo della sonora campana sembrava che la notte tremasse poi le luci della ferrovia si spensero e solo una lanterna solitaria seguitò a brillare simile a un grosso rubino su un gigantesco albero maestro il ruggito della città si affievolì verso le due Arthur si alzò e si incamminò verso Blackfriars ogni cosa sembrava irreale simile a uno strano sogno sul lato opposto del fiume le case sembravano costruite di tenebre si sarebbe detto che la luce argentea e l'ombra avessero rimodellato un mondo nuovo la grande cupola di Saint Paul si disegnava come un globo oscuro nella lontananza mentre si avvicinava all'obelisco di Cleopatra vide un uomo appoggiato al parapetto e quando gli fu vicino la luce di un lampione li illuminò in pieno e l'uomo sollevò il capo era Podgers il chiromante non ci si poteva ingannare su quella faccia flaccida su quegli occhiali cerchiati d'oro e su quell'ambiguo sorriso impresso sulla bocca sensuale Lord Arthur si immobilizzò una brillante idea gli balenò nella mente gli si avvicinò alle spalle di soppiatto in un attimo lo afferrò per le gambe e lo scaraventò nel tamigi una bestemmia un tonfo e poi più niente Lord Arthur guardò ansiosamente la superficie del fiume vide soltanto il cappello a cilindro del chiromante che girava in un gorgo d'acqua argentata dal chiaro di luna dopo qualche minuto anche il cappello scomparve del signor Podgers non rimase traccia a un certo momento gli parve di scorgere una grossa ombra informe che si inerpicava su per la scaletta del ponte e l'invase l'orribile sensazione di aver fallito ma si trattava in realtà solo di un ingannevole riflesso di luce che scomparve non appena la luna tornò a splendere spuntando da dietro una nuvola finalmente aveva compiuto il crimine previsto nel suo destino lord arthur emise un profondo respiro di sollievo e il nome di sibyl gli venne spontaneo alle labbra le è caduto qualcosa signore disse all'improvviso una voce dietro di lui si voltò e vide un poliziotto con una grossa lampada a pila in mano non era niente di importante grazie sergente sorrise mentre gli rispondeva e dopo aver fermato una carrozza disse al cocchiere di condurlo in belgrave square nei giorni immediatamente successivi paura e speranza si alternarono nel suo animo c'erano momenti in cui quasi si aspettava di vedersi ricomparire davanti il signor podgers altre volte era convinto che il destino non avrebbe potuto accanirsi ancora contro di lui per due volte andò nell'abitazione del chiromante in west moon street ma non osò decidersi a suonare il campanello desiderava esser certo e nello stesso tempo ne aveva paura ma finalmente la notizia giunse seduto nel fumoir del club ascoltava con aria di staccata il resoconto di Sarbiton sull'ultimo spettacolo del Gaiety quando entrò il cameriere con i giornali della sera prese il St. James e se ne stava sfogliando distrattamente le pagine quando il suo sguardo fu attratto da questo titolo suicidio di un chiromante impallidì per l'emozione e cominciò a leggere quel che segue ieri mattina alle 7 il cadavere del signor Septimus R. Poggers l'illustre chiromante è stato riportato a riva a Greenwich proprio di fronte allo ship hotel lo sventurato era sparito da alcuni giorni causando vive preoccupazioni nei circoli chiromantici si pensa che si sia suicidato in un momento di improvviso squilibrio mentale provocato da eccesso di lavoro tale è il verdetto emesso dai giudici il signor Poggers aveva appena terminato un acuto studio sulla mano umana che sarà pubblicato prossimamente e attirerà certo l'attenzione curiosa del pubblico il defunto aveva 65 anni e sembra che non avesse alcun parente lord Arthur uscì correndo dal circolo con il giornale in mano facendo stupire il portiere che cercò inutilmente di fermarlo e si diresse subito a Park Lane Sibyl lo vide dalla finestra e un presentimento le disse che le portava una buona notizia gli corse incontro e capì dal suo viso di non essersi illusa Sibyl mia cara gridò lord Arthur sposiamoci domani che pazzo che sei ma se la torta nuziale non è stata ancora ordinata rispose Sibyl ridendo tra le lacrime quando tre settimane più tardi il matrimonio ebbe luogo a St. Peter c'era una vera folla di gente elegantissima il servizio fu celebrato dal decano di Chichester con grande pomposità e tutti dissero di non aver mai visto una coppia più bella nemmeno per un attimo lord Arthur rimpianse di aver tanto sofferto per amor di Sibyl e da parte sua la fanciulla gli diede le cose più belle che una donna può dare a un uomo rispetto tenerezza e amore nella loro vita l'idillio non fu ucciso dalla realtà essi si sentirono sempre giovani alcuni anni più tardi quando erano già nati due deliziosi bambini Lady Windermere andò a trovarli ad Alton Priory un'incantevole antica villa che il duca aveva dato al figlio come dono di nozze un pomeriggio Lady Windermere era seduta con Sibyl in giardino sotto un tiglio stava guardando il ragazzetto e la bambina che giocavano nel viale di rose irrequieti come i raggi del sole a un tratto prese tra le sue e la mano della giovane ospite e le domandò è felice Sibyl? cara Lady Windermere certo che lo sono e lei? ecco mia cara non ho tempo di essere felice amo sempre l'ultimo uomo che conosco ma di solito appena l'ho conosciuto a fondo me ne stanco non la soddisfano dunque i suoi leoni? oh cara proprio no i leoni vanno bene per una sola stagione appena si tagliano la criniera diventano le creature più stupide che si possa immaginare inoltre se si è veramente gentili con loro si comportano molto male ricorda quell'orribile signor Podgers era uno spaventoso impostore naturalmente non mi importava e anche quando mi chiedeva denaro in prestito io lo scusavo ma non potevo sopportare che mi corteggiasse mi ha fatto proprio odiare la chiromanzia adesso mi interesso alla telepatia che è molto più divertente non parli male della chiromanzia Lady Windermere è l'unico soggetto su cui Lord Arthur non ama che si scherzi le assicuro che ne parla sempre con gran serietà non vorrà dire che ci crede glielo domandi Lady Windermere eccolo infatti Lord Arthur si avvicinava tenendo tra le mani un gran mazzo di rose gialle mentre i due bambini gli saltellavano intorno Lord Arthur eccomi Lady Windermere non mi dirà che crede veramente nella chiromanzia certamente rispose il giovane con un sorriso ma perché perché le devo tutta la mia felicità mormorò sedendo in una sedia di vimini mio caro Lord Arthur che cosa mai le deve Sibyl rispose porgendo le rose alla moglie e fissandola nei bellissimi occhi violetti che assurdità esclamò Lady Windermere non ho mai sentito una sciocchezza simile in vita mia